Domenica prenderà il via la prima edizione di Macchie e Inchiostri, di che cosa si tratta? Macchie e Inchiostri è il primo festival di giornalismo d'inchiesta che abbiamo ideato insieme all'associazione Ville Castella e che collabora con noi quest'anno per l'ideazione di questo primo festival del giornalismo d'inchiesta. Faremo venire a Colli al Metauro una serie di prime firme del giornalismo d'inchiesta italiano che illustreranno di volta in volta tematiche che non trovano spesso adeguato spazio nei canali tradizionali di informazione. Dove si svolgeranno questi incontri e chi saranno i protagonisti? Allora, gli incontri si svolgeranno su tutto il territorio di Colli al Metauro perché la nostra amministrazione, che è un'amministrazione neoeletta, intende creare questo senso di comunità coinvolgendo tutte le frazioni di Colli al Metauro. Quindi sarà un festival itinerante con una serie di incontri che si svolgeranno nelle varie sedi istituzionali e dislocate lungo tutto il territorio. Quindi si andrà da Saltara, Montemaggiore, Selungarina, Tavernelle e via così. Sono sei incontri, tutti la domenica pomeriggio alle 5 e mezza. Quindi un orario più da aperitivo forse, ma un aperitivo un po' impegnato. Alcuni di questi ospiti? Ma come dicevo prima sono tutte le prime firme del giornalismo italiano, adesso ricordarmene tutte vado a memoria, però abbiamo da Amalia De Simone a Vittorio Iacovella, Gianni Lannes che inizierà domenica prossima a Montemaggiore al Teatro Comunale. Le tematiche sono tematiche a volte crude, però è importante conoscerle. Dove è possibile trovare maggiori informazioni? Ma i volantini si trovano un pochino dislocati su internet, nei vari siti, sia sul sito di Ville Castella, nelle nostre pagine Facebook. E comunque è possibile trovare un pieghevole che abbiamo fatto in formato tascabile per essere facilmente illustrabile.